Si fa con... anch'io cinque anni fa avevo considerato perdente e poi ho vinto l'elezione. Ovviamente è una candidatura nuova, si deve fare conoscere, però per quel che ci riguarda non vorremmo mancare il nostro leale sostegno. Per essere chiara, a me interessa il ruolo politico all'interno del Partito Democratico. Poi siamo interessi. Non sono per chiedere poltron, non sono per chiedere garanzie, anche perché siamo in condizione di farci leggere da soli, per essere chiara. Io sono stato sempre eletto con la mia forza e non ho mai avuto una sconfitta elettorale, per essere chiara, non sono abituato a perdere. Ho questa piccola abitudine di vincere, quindi non chiediamo posti, sicurezza, ma chiediamo un ruolo politico che deve essere riconosciuto legittimamente. Anche i anni di Fisch, in cui aver creato questa associazione e movimento che mi capano, a molti li ha fatti vedere come una sorta di antipartito, invece era solo funzionale e al Partito Democratico per poter vincere in Sicilia dentro una storia anche che non ha visto mai classicamente la sinistra forte in Sicilia. Quindi la battaglia è tutta da giocare. È chiaro che se noi stiamo dentro, la battaglia a questo punto è possibile la vittoria. Questo può fare compagnia elettorale con chi può raffreddare?